Buongiorno Adedo e che cos'è questo? È un podcast sull'intelligenza artificiale? No, è un podcast sul coding, sul cloud, sulla programmazione, sulla industria IT. Ma chiaramente, come detto molte volte, il mercato va in quella direzione. Ci sono un sacco di notizie di cui parlare che riguardano questo tema e non le possiamo ignorare, no? Oggi ne ho pescate tre e riguardano tre prodotti consumer, di fatto lanciati ora, senza waitlist, quindi li potete provare. L'ultimo, devo dire, è il più interessante, quindi restate fino alla fine. Queste sono becere tattiche da social media manager senior. Comunque, io gli ho dato un'occhiatina perché questo tipo di applicazioni non sono una moda passeggera. Questo è il paradigma con cui sarà costruito il software da qui ai prossimi anni. E ignorarlo semplicemente è controproducente, è dannoso anzi. Anche se è ovvio che ora molti di questi possono essere ignorati perché troppo acerbi, ancora non in grado di sostituire i vecchi algoritmi. Ma vista la velocità alla quale migliorano, è probabile che presto le modalità con cui usiamo le app, gli editor di testo, i lettori di news, la modalità stessa con cui scriviamo codice, cambierà del tutto e chi non si sarà abituato dovrà recuperare terreno. Quindi, pippone introduttivo, probabilmente totalmente inutile, quindi mi fiondo subito a parlare delle robe di oggi. Ho detto di avere tre prodotti. In realtà il primo non è un prodotto nuovo, ma è una funzionalità di IA aggiunta a un prodotto esistente, di cui peraltro avevo già parlato tempo fa qui al podcastissimo. Sto parlando di Notion AI, che è la feature che permette a chi usa Notion, che se non lo conoscete è un'app che consiglio assolutamente, vi permette di prendere note, però questo è riduttivo, vi fa creare tabelle, template particolari, dashboard, insomma, vi fa organizzare il cervello, ecco. E dicevo, la feature di IA era stata aggiunta in beta a novembre, e per provarla bisognava iscriversi a una waitlist, mentre da oggi è disponibile per tutti gli utenti. Non c'è waitlist, quindi potete provarla subito, ma ciascun workspace è limitato a 20 risposte gratuite fino al 5 aprile, dopodiché avrà un costo che è di 10 dollari al mese, oppure 8 dollari se pagate l'annuale. Io ho partecipato al programma beta e devo dire che non l'ho usata tantissimo. Molte volte mi sono sforzato di farlo per capire il suo funzionamento e quanto potesse aiutare davvero, e in particolare ci sono due cose che ho usato di più. Allora, come funziona intanto Notion AI? Quando state scrivendo su Notion potete andare su una nuova riga, premere spazio e vi appare un box di test dove potete scrivere il prompt per la IA, tipo scrivi un blog post sulle IA generative, e a quel punto lui vi genera un post, anche in italiano, in genere molto più lungo di quello che vi potrebbe generare ChatGPT, che potreste usare come punto di partenza per il vostro post vero. Ovviamente tutte le informazioni contenute sono probabilmente vere, ma bisogna controllarle, perché come tutte le IA attualmente sbaglia molto volentieri. Le feature comunque non si fermano qui, per esempio potete creare una nota con la trascrizione di un meeting, e chiedere di generare un elenco puntato con le action da intraprendere, che lui troverà nel testo, oppure prendere un testo molto lungo e chiedergli di fare un riassunto, magari corredato da una tabellina, o ancora selezionare un paragrafo e chiedergli di riscriverlo con un tono diverso, o renderlo più corto o più lungo, correggere i typo, tradurlo o anche semplificarlo. Personalmente devo dire che queste cose funzionano abbastanza bene, soprattutto quello sul testo già esistente, perché invece di inventare cose magari sbagliate, si concentrano sulla forma di qualcosa che avete già scritto voi, quindi è più difficile che escano informazioni errate. Io le cose che ho usato più spesso sono la correzione di errori nel testo e il cambio di tono, giusto per provare a vedere quanto potessi trasformare un testo molto tecnico, molto serio, in qualcosa di un pochino più frizzante, un po' cose che poi ho usato anche per alcune puntate di questo podcast, e queste cose funzionano abbastanza bene, come appunto dicevo prima. Comunque vi consiglio di provare Notion in generale e poi di fare un giro su Notion AI, poi vedete voi se il boost alla produttività vale i 10 dollari al mese che richiede. Il secondo prodotto di cui vi voglio parlare è Artifact, che è una app per Android e iOS fatta dai co-founder di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, e lanciata lo scorso mese in waitlist, ora invece è disponibile per tutti. Di fatto è una app di news, solo che è powered by AI, quindi attraverso il machine learning cerca di proporre gli articoli che pensa siano adatti all'utente, dopo che all'avvio dell'app vi chiede di selezionare 10 topic a cui sareste interessati. E peraltro qui io ho trovato il primo problema per me appunto, cioè 10 topic sono moltissimi, molto differenti tra loro, per come uso io le news, non voglio avere nello stesso feed, le tech news e i risultati delle partite NBA. Comunque dopo un po' lui impara meglio i vostri gusti, basandosi sugli articoli su cui cliccate più spesso, quindi personalizza il feed e lo migliora, cucendolo sempre di più su misura per voi. Peraltro qui potete anche dire esplicitamente se un articolo non vi piace, quindi lui vi mostrerà meno contenuti di quel tipo. Poi ci sono altri feature, tipo silenziare una sorgente per 30 giorni, vedere le proprie statistiche con i temi che interessano di più, oppure dei tab dedicati a singoli topic e altre cosette. Insomma, non è un'app rivoluzionaria e per il momento io gli sto preferendo il lettore di RSS che mi posso organizzare per bene nel dettaglio, come mi pare. Anche perché questo spesso mi dà delle news vecchie, magari di una settimana, io invece vorrei una roba freschissima. Però vediamo se tra qualche tempo si perfezionerà sui miei gusti e sulle mie abitudini e diventerà un valido sostituto. E infine un prodotto che ho scoperto ieri, lanciato su Hacker News, è forse il più interessante del lotto. Si tratta di FIND, scritto con il PH, quindi P-H-I-N-D, ed è un motore di ricerca basato sulla IA e specificamente indirizzato agli sviluppatori, come dice anche la sua home page. FIND è stato creato dalla start-up di San Francisco, Hello Cognition, e lanciato in versione pubblica 1.0. In precedenza esisteva già come Hello, ma questa versione è stata completamente riscritta. Questo motore di ricerca è generativo, come ChatGPT, ma è anche connesso a internet come Bing, e quindi ha accesso all'API Docs, per esempio, in tempo reale. E supporta le domande di follow-up nel contesto della chat, quindi unendo nuove informazioni con quello che ha già mostrato. Essendo proprio indirizzato ai developers, dà il meglio di sé con le domande relative al codice, fornendo proprio gli snippet formatati correttamente, in risposta a domande che possono poi essere formulate come a un essere umano, oppure anche come le fareste su Google. Io ho trovato che risponde piuttosto bene in entrambi i casi. Tecnicamente il modello di Find è stato addestrato con una tecnica chiamata Reinforcement Learning from AI Feedback, cioè invece del classico Reinforcement from Human Feedback, quello che usa ChatGPT, ovvero esseri umani che valutano i risultati giusti o sbagliati generati dall'IA, ne abbiamo già parlato, qui è la IA stessa che genera delle comparazioni e fa una review delle sue stesse risposte, creando etichette e annotazioni che poi facilitano il lavoro di review umana, quindi dovrebbe risultare più veloce e più semplice. Comunque l'ho provato e mi ha abbastanza impressionato, soprattutto perché è in grado di dare diverse possibilità in risposta a una domanda. Ad esempio, se chiedete come fare il fetch di un dato da un API in React, vi propone diverse modalità, con Fetch, con React Fetch, con React Query, o anche con Axios se poi andate avanti con le follow-up. E la stessa cosa con la scrittura di test o domande sull'architettura di un'applicazione. Mi ha risposto bene anche a domande complesse, come ad esempio come usare Cypress, che è un software per scrivere test end-to-end comandando un browser, per accedere a un sito che usa il login di Azure, che è una di quelle cose che bisogna sempre riguardare sulla documentazione perché è complessa e richiede vari passaggi. Bene, Find ha guardato le risposte su Stack Overflow, la documentazione ufficiale di Cypress, e una issue su GitHub, sul repo ufficiale di Cypress, tutti i link che l'utente può vedere a fianco alla risposta fornita, e ha generato una risposta che spiega passo passo cosa fare, con esempi di codice che poi non ho testato direttamente ma che mi sembrano corretti, o comunque un ottimo primo passo da affinare poi a mano per completare il proprio test reale. Insomma, questo tool sembra unire il meglio di una IA generativa come ChatGPT o Copilot e il meglio della ricerca temporale su internet, sulle doc e su GitHub, impacchettando il tutto in una bella interfaccia e con possibilità di fare domande di follow up per approfondire ancora di più. Secondo me questa roba è assolutamente da mettere nella borsa degli attrezzi del dev che avete sempre portato di mano nel bookmark del browser. Intanto capiamo bene quanto è valido come aiuto, mentre vediamo quanto migliorerà con il tempo. Poi lo teniamo d'occhio perché questo, o altri prodotti come questo, io sono convinto che diano un boost produttivo impossibile da trascurare o da snobbare, pur se siete i migliori programmatori di sempre. Se ignorate questa roba perderete un vantaggio competitivo e poi semplicemente non ha senso. Fidatevi di questo faccione qua. Ed era tutto per questa puntata totalmente incertata sulla IA, ma totalmente scritta da un essere umano, cioè io, perché io predico bene ma razzolo male. Quindi grazie per avermi seguito fin qui e direi che ci becchiamo alla prossima. Ciao!